Dagli accertamenti medici il suo tasso alcolemico è risultato di gran lunga superiore ai valori consentiti dalla legge. E adesso il giovane 22enne di Rosolini in provincia di Siracusa, che nella notte fra sabato e domenica ha ucciso tre persone in uno scontro frontale mentre era alla guida di una Fiat Punto, deve rispondere di omicidio stradale plurimo. I carabinieri di Ispica in provincia di Ragusa lo hanno arrestato questa mattina, mentre il ragazzo è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Ha riportato un grave politrauma con frattura al torace e al bacino e le sue condizioni sono costantemente monitorate dall'equip medica del reparto. Nell'incidente avvenuto la notte fra sabato e domenica lungo la statale 115 Ispica a Rosolini sono morti Cristian Minardo di 22 anni, la sua fidanzata Aurora Sorrentino di 17 e la madre della ragazza Rita Barone di 54 anni, tutti di Rosolini. Non si arresta la scia di sangue sulle strade siciliane, solo tre giorni fa Catania un'altra vita spezzata, quella di Mirko Leone, 24 anni. Il ragazzo viaggiava sulla sua Fiat Ulisse quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo allo svincolo di Mister Bianco, morto sul colpo, per lui non c'è stato niente da fare. E ancora la lista dei nomi inghiottiti dall'asfalto si allunga, Gianluca Pesce, 19 anni, muore a bordo del suo scooter Fraficarazzi e Cicastello e finisce contro un guardrail che non gli lascia scampo. I cugini Santora Pisarda e Andrea Zappalai, campioni di 19 e 16 anni, perdono la vita in via Palermo a Catania, mentre sono a bordo della loro moto allo scontro con una lancia Libra, gli è fatale. E poi Alessandro Messina, un'auto non rispetta lo stop alla zona industriale etnea, lo c'entra in pieno mentre anche lui era a bordo della sua moto. Il giovane lotta disperatamente fra la vita e la morte per dieci giorni e poi muore.